amici di lecco fm ci troviamo nella sede di conf commercio lecco e siamo con rino barbieri che è presidente della federazione italiana venditori ambulanti di lecco buongiorno buongiorno voi sì allora c'è un volantino che noi facciamo vedere vogliamo vivere vogliamo lavorare la protesta degli dei venditori ambulanti che in zona rossa ma in generale in tutto l'ultimo anno e mezzo hanno riscontrato grandi difficoltà anche sulle chiese sì un calo anche in questi giorni al 100 per cento ma siamo sul 70 80 per cento in generale perché abbiamo lavorato pochissimo anche in zona arancione non c'è più l'afflusso dei clienti perché sono spaventati da questo coi ecco chi può lavorare parlando dei venditori ambulanti beh in questo momento il decreto dice che supermercati negozi possono vendere alimentare il food e possono vendere prodotti per la casa prodotti igienici prodotti per bambino e intimo invece noi ambulanti questi prodotti non possiamo venderli cioè il mercato ambulante si svolge solo per il food per i prodotti alimentari e quindi noi siamo discriminati perché non possiamo lavorare tutti gli altri possono vendere i nostri prodotti e noi che siamo l'aria aperta non possiamo venderli voi dite è più sicuro andare a comprare dal venditore ambulante rispetto che per esempio in un supermercato per il semplice fatto che ci si trova all'aria aperta non dico che è più sicuro comparare all'aria aperta l'ultimo sondaggio dice che è la zona più sicura c'è una percentuale di 0,001 di possibilità di contagiare perché noi siamo all'aria aperta noi il cliente siccome potenzialmente dei banchi lo abbiamo minimo due metri tra operatori siamo circa sei metri quindi non c'è nessun motivo usiamo tutti i criteri di generatore guanti tutto quello che ci le regole per poter lavorare però non ci non ci fanno lavorare ecco sabato 10 aprile alle ore 8 e 30 avete organizzato questa protesta che si farà se non si passa in zona arancione voi comunque vi state premurando andrete tra pochissimo tra pochi minuti in quest'ora in prefettura per firmare appunto il consenso per fare questa questa manifestazione possiamo dire sì che adesione quanti sono i venditori ambulanti per l'ecco all'ecco abbiamo due mercati mercoledì e sabato siamo sulla media dei 100 100 operatori 120 sabato sì 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 molto e cento circa sabato mercoledì i ristori in questo ultimo anno e mezzo ristori in quel anno e mezzo alcuni sono arrivati qualcosa è arrivato a qualcuno è arrivato su 2000 euro ne ha dovuti versare 4 di in alcuni non sono arrivati se alcuni non sono proprio arrivati completamente e addirittura chiedevo anche dei dipendenti anche la cassa integrazione non è arrivata quindi siamo esasperati per quello ecco si vince una grandissima lei in primo è toccato da questa zona rossa certo io vendo intimo e non posso lavorare anche se in un supermercato per esempio le sue materie si potrebbero comprare certo il mio prodotto l'intimo nel supermercato e i negozi e itinerando si possono vendere al mercato no questo non riusciamo a concepirlo capisce insomma crediamo che la maggior parte dei venditori ambulanti anche sull'ecco siano in grandissima difficoltà da quello che ci sta dicendo certo sono tutti in difficoltà quelli che sì anche i commercianti sono in difficoltà perché il mercato oltretutto porta gente in città e al mercato cioè se in un mercato non ci siamo noi l'alimentarista anche loro faranno il 30 40 per cento di lavoro 70 per cento in meno poi dipende dalle zone sai il paesino e la città insomma lei crede che magari con la zona arancione le cose possano migliorare quanto tempo ci vorrà per per recuperare la strada persa ma guardi per recuperare la strada persa non penso che penso che ci vorrà molto molto tempo perché anche in zona arancione la gente spaventata e quindi al mercato c'è un afflusso molto inferiore delle persone però di gente perlomeno speriamo che vengano oltretutto poi se va a buon fine il vaccino quindi si pensa di poter operare ma per questo valenco per tutti per ristoratori per i bar bisogna aspettare comunque bene rino barbieri presidente federazione italiana venditori ambulanti conf commercio lecco sabato 10 aprile quindi alle ore 8 e 30 questa protesta è linea con altre proteste che si sono viste nel paese sì stamattina abbiamo fatto manifestazione a come per protestare appunto come ci sono 224 bancarelle quindi sì abbiamo manifestato già la seconda volta per questo problema qui perché siamo esasperati cioè voi dovete capire che un operatore ha acquistato la merce l'anno scorso a gennaio febbraio per la primavera non l'ha venduta l'ha messo in magazzino ha comperato la roba estiva non l'ha venduta l'ha messo in magazzino abbiamo venduto qualcosa come invernale ma adesso con la roba primaverile che abbiamo in casa non possiamo venderla perché siamo chiusi quindi abbiamo un'agenza di magazzino pagata e non incassiamo e siamo esasperati perché alla fine mese cioè dobbiamo mangiare anche noi c'è gente che proprio non arriva più neanche a fine mese deve chiedere aiuto ai genitori o i nonni per poterla arrivare a poter mangiare ecco in poche parole e questo è grave perché vivo in mezzo a gente che sono esasperati e la esasperazione porta a fare gesti brutti che noi non condividiamo però purtroppo abbiamo visto caserta bloccato l'autostrada a napoli hanno aggredito la polizia siamo ormai siamo cani randaggi senza guinzaglio quindi il primo che troviamo morsichiamo il problema condiviso da da tutto il paese grazie a rino barbieri grazie anche a pietro cimino consigliere fiva commercial ecco e speriamo in bene ecco che si facciano lavorare ecco sabato 10 aprile alle ore 8 e 30 alla piccola se si rimane in zona rossa ci sarà questa se venerdì sera visto che la regione ha la possibilità di decidere senza aspettare il decreto e tasso cioè il coefficiente di regredisce sospenderemo la come abbiamo fatto nel volantino già d'accordo con la prefettura i problemi rimangono chiaramente si però non vanno cioè non penso che questo punto si potrebbe andare a manifestare ma non penso più che valga la pena perché poi lunedì cominciamo a lavorare avevi problemi senz'altro rimangono ma rimarranno ma anche per un bel po di tempo perché anche questi ristori questi ristori sono peggio di quelli di prima perché prima c'era il codice a teco e quindi chi aveva una partita io adesso è diverso adesso ci sono dei coefficienti che addirittura in questo mio caso per 40 euro sono fuori dal ristoro ecco e quindi ulteriori difficoltà grazie rino barbieri noi concludiamo qui il nostro collegamento e vediamo la linea le prossime novità e dirette di lecco fm grazie a voi grazie buon lavoro a voi